La gestione dei rifiuti urbani è una voce pesante nei bilanci delle amministrazioni comunali e per questo che i governanti cercano soluzioni alternative lungo tutto lo stivale, con diversi approcci al problema e anche diverse soluzioni. Oltre che essere quella ambientale un tema legato a questa problematica, c'è anche un altro aspetto preponderante, ovvero l'aspetto del ritorno economico che questi impianti generano attraverso produzioni di biogas o compost utilizzabile nell'agricoltura come fertilizzante, anch'esso biologico. Il tema del digestore per la gestione dei rifiuti organici è entrato a gamba tesa anche nei dibattiti cittadini di Fano, sia politici che della gente comune, dopo che Aset ha annunciato di volerne realizzare uno sul territorio comunale. Ma mentre gli schieramenti dei pro e dei contro si sfidano a colpi di dibattiti, incontri pubblici, esperti e non esperti, fa Capolino in questi giorni un terzo soggetto, la Feronia SRL di Porto Sant'Elpidio, che ha realizzato e presentato in provincia un progetto per un impianto da realizzare nel comune di Barchi, su un terreno privato adiacente alla discarica pubblica chiusa da tempo di Ca. Raffanello. Un progetto cucito su misura sulle esigenze della provincia, ovvero 40.000 tonnellate. Progetto inviato nei giorni scorsi anche al comune di terre roveresche. Noi abbiamo ricevuto come amministrazione comunale il progetto sabato scorso, lo troverete da oggi caricato sul sito, non ha nulla a che vedere con il progetto di Fano dell'Aset e degli altri, quindi quella è una questione e questa è un'altra. Adesso già la prossima settimana faremo un'assemblea pubblica con i cittadini, perché chiaramente questo progetto decidono i cittadini. Noi siamo a guardiani della nostra comunità, daremo le informazioni corrette e poi i cittadini decideranno con un'assemblea pubblica, nelle assemblee pubbliche con le informazioni. Il progetto che ci hanno inviato perché è l'autorizzazione della provincia e ancora stiamo aspettando la comunicazione ufficiale che è dall'inizio all'iter autorizzativo e quindi noi abbiamo già inviato alla cooperativa articolo 32 che è il nostro partner da sempre per appunto fare un'analisi scientifica approfondita di tutti gli aspetti, anche perché la cittadinanza va informata in maniera corretta e capillare e poi dopo la cittadinanza decide quello che può essere l'iter e quello che può essere anche il risultato. Poi sarete chiamati anche a esprimere un parere in conferenza di servizi, quando sarà? Certo, quando sarà noi dovremo esprimere un parere, come penso anche agli altri enti coinvolti e chiaramente il nostro parere sarà la risultanza di quello che la comunità vuole.